Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 23esimo episodio riguardo alle news di Farmy Simulator 2017 Come ho detto in questi giorni penso che almeno una volta al giorno uscirà una news perché Tanto per vedere, allora, ieri una, l'altro ieri anche, vabbè questo video qui è uscito Ascoltate, allora, domenica, sabato, ok, venerdì e giovedì questo Quindi praticamente ogni giorno, quasi, lo torniamo indietro Allora, oggi è uscito il trailer, c'è una specie di un tip hunting, pratica scarica, pratica potete scaricare dappertutto, quello che volete E un video non è tipo un trailer, neanche un game, sì, un po' un game, un trailer più che altro Allora, direi di farlo partire, c'è l'audio? No, non c'è l'audio? C'è l'audio però l'ho tolto Ok, qui vedete la nostra Allmer, vedete, potete scaricare dappertutto e questa cosa qua mi gasa moltissimo Vedete? Poi andate avanti, guardate il mucchione, guardate che roba Veramente è una cosa assurda, è molto realistica Ok, la lascia di giorno e notte, poi arrivate con la ropa, quella, c'è scusate, non la ropa, la Allmer, scusate veramente E arriva con la Allmer quella che le raccoglie, guardate Praticamente non so se è interattiva questa funzione qua da abbassare e tirare verso di noi, però c'è In teoria sì, mi sa Aspettate Adesso si vede appena Boh, non si vede molto, però penso sia interattiva Comunque tutto, c'è una, una fila di barbabietole che si muove in pochissimo tempo Qui ecco col giosco in pasta Come vedete il dirt è stato fatto bene, molto meglio dell'anno scorso Allora, un'altra volta che fa vedere il car Vedete, l'han fatto bene qua Sopra non è che si sporca tanto Forse potremmo sporcare un po' di più sotto, però non è fatto male E qui iniziamo a vedere un attrezzo della Grimm Allora, dalla Grimm, vabbè qui il sito ufficiale Mi sa che, no, mancano ancora questi attrezzi Infatti, vedete, dalla Grimm mancano ancora gli attrezzi per le barbabietole Non so se potete scaricarvi anche patate In pratica è un raccoglitore di barbabietole Come vedete, eh, non è fatto male neanche il parcel Non so come cavolo si Non dovrebbe essere il particolo In pratica, i cumuli, vedete, non è che tutto ci sono buchi Forse un po' qua dietro c'è un po' un buco Però un po' meglio dell'anno scorso Vedete, va indietro Lo scarica Vedete, scaricate qua dentro È una specie di nastro di trasportatore assemblati Vedete, scarica, poi c'è il nastro E poi, che va su un altro nastro Quest'altro nastro lo manda in alto Vedete? Ecco, va lì Poi qui c'è il col... vedete qua c'è l'attacco Questo qui è quello che avevamo visto Aspettate De cavoli l'avevano visto Mi ricordo di averlo visto da qualche parte Eh, eh, mi si ricorda più adesso Forse sulla mappa Boh, non mi ricordo più Però l'avevo visto Ecco, aspettate nel video Questo video qua De cavoli In questo video qua, appunto, si vedeva Sono sicuro al 100% Cioè, nello shop si vedeva la categoria Dei nastri trasportatori con quello Appunto, ecco lì che avevo visto Avete questo nastro Molto comune Però dovete avere quest'altro nastro Adesso non so se qua è un trigger Però penso che sia soltanto un capanno Poi con la possibilità di scaricare tutto dove volete Vi lascia scaricare qua dentro Adesso andiamo avanti Dovrebbe essere... Boh, da lacrime Allora, qui non sono riuscito a ben capire Allora Vabbè, qui avete questa Questa parte qui Tutto da trasportare Quindi veramente Se dovete portare qui Tre cose per scaricarle Potete anche scaricarle direttamente Da quel che ho capito Allora Ok, potete scaricare il grano All'interno di questi capanni E è una cosa che Mi piace un sacco I nastri però io, se caso Preferisco utilizzarli Per caricare le colture Non per scaricarle Poi Allora, qui scarica l'etame Molto bella la cosa Come vedete c'è ancora la copertura Per questi mezzi E qui ho notato Adesso lo zoom Vediamo un po' se c'è lo zoom Che Zoom No, non va in caso Scusate, allora Non va nulla Vabbè, zoom Lasciamo come era Originale Comunque Sto Sbassiamo il volume Ok Comunque Come potete vedere qua Penso sia un effetto visivo Perché la text C'è il segno che Si è passati col mezzo Però sembrerebbe quasi Che sprofonda Ma invece non è così Forse qua un pochettino No, ma sembrerebbe Sembrerebbe forse un pelino Che va giù Però È impossibile questa cosa Cavolo Ok Ecco Questa parte qui Potete ricaricare La lenke Purtroppo Ci sono anche Difetti sul gioco Ovvero Come vedete La parte arancione In basso Sono i semi Che non avete scaricato Cioè non avete centrato La lenke E quindi avrete i semi Per terra E perché Io ho detto Che è meglio Il pal Cioè il Big bag Perché altrimenti Con la pala Succederanno questi casini E Non è al massimo Perché Uno non è che Prende la benna La riempie E poi la scarica dentro Perché è logico Che va tutto per terra Aspettate Cavoli Qua c'era anche Il nostro Yurliman Ecco Come vedete Per caricarlo Togliete La parte iniziale Invertite il senso Dovrebbe essere Cavoli Un rallato Questo qua Questo dovrebbe essere Il gancio E vedete Molto comoda Come cosa Ah qua c'è Tra l'altro La carriola Non penso Abbia interattività Però c'è la carriola E ecco Guardate qua poi Non è tutto continuo C'è un po' Quando arriva in fondo Si divide Ecco Molto bella come cosa E nulla È finito qua il video Vabbè Passate qui Tra l'altro Qui No Cavoli Non devi fermare Mamma mia Ancora Si dai Falla ancora Una volta Allora Lo stoppato Come vedete Qui ci sarebbe La La Ci sono Ci sono alcuni Mezzi Che non si vedono Tipo No vabbè Sto Zetor Si Però Anche la La new Holland Non c'è Questo modello Almeno Per ora Non si è visto Nulla Chiudiamo qui E andiamo Qui Vabbè Sito ufficiale Non c'è Non è più uscito Nulla Ecco Voglio farvi notare Che questo qui È stato un po' Modificato Il lavatore Dei mezzi Vabbè E qui dovrebbe mancare Soltanto Il Yoskin Quello Cavoli si chiama Il Non Il Dracar E quello che c'è qua sopra Il Trans Un po' No Come cavoli si chiama Vabbè Avete capito E qua Cos'è che ci dice Errore del server Cavoli Ls Infos Cosa combini Vedete Non possiamo Eh Non possiamo No dai Dai che va Vabbè Nel dubbio Lo riscrivo Ls Infos No no Non funziona Vabbè Comunque Non è uscito Null'altro Ehm I mezzi Sono sempre quelli Ls Infos Non va E Ur Vabbè Ur Sì Vabbè Ho già visto Ci sono questi Coming soon E poi Linner Dovrebbe Ecco L'hanno messo Vabbè Io direi Di salutarci qui Questo video Lo vedrete Non so Perché oggi Dovrebbe uscire Non so Ma l'avete già visto Comunque Il video Su Ride 2 Doveva uscire domenica Però L'ho portato Lunedì E spero di farvelo vedere Lunedì Perché ci tengo molto A farvelo vedere Perché domenica È uscito questo video L'ho lasciato perdere Sempre riguardante Le news Però Oggi Vedrete Ride 2 O l'avrete già visto Perché ci tengo molto Mentre questo video Non so Possibile che lo vediate Intorno alle 6 Quegli orari lì E Volevo farvi anche notare Che Ho Ieri È uscito Il primo video Su quest'altro canale Che ho Creato Riguardante Ride 2 Sullo Squarna Qui è ancora più modificata Che poi ve la farò Vedere prossimamente Allora Torniamo sul nostro canale E Nulla Oggi è uscito appunto Serie Made in Italy Domani uscirà La serie agricola E In futuro Non so cosa uscirà Perché Devo ancora Programmare Devo ancora registrare Ho appena finito Di registrare La serie agricola Di domani E Un test mode Ecco E nulla Noi ci vediamo Domani con un nuovo video Ciao a tutti Toretti E al prossimo video Zoom No Non va in caso Scusate Allora Non va nulla Vabbè Zoom Lasciamo come era Originale Comunque Sto Abbassiamo il volume Ok Comunque Come potete vedere qua Penso sia un effetto visivo La text C'è il segno Che si è passati col mezzo Però sembrerebbe Quasi che sprofonda Ma invece non è così Forse qua un pochettino No ma sembrerebbe Sembrerebbe forse un pelino Che va giù Però È impossibile questa cosa Cavoli qui non Ok Ecco Questa parte qui Potete ricaricare La lemke Purtroppo Ci sono anche Difetti sul gioco Ovvero Come vedete La parte arancione In basso Sono i semi Che non avete scaricato Cioè non avete centrato La lenke E quindi avrete i semi Per terra E perché io ho detto Che è meglio Il palo Cioè il Big bag Perché altrimenti Con la pala Succederanno questi casini E Non è al massimo Perché Uno non è che Prende la benna La riempie E poi la scarica Dentro Perché è logico Che va tutto per terra Aspettate Cavoli Qua c'era anche Il nostro Yurlyman Ecco Come vedete Per caricarlo Togliete La parte iniziale Invertite il senso Dovrebbe essere Cavoli Un rallato Questo qua Questo dovrebbe essere Il gancio E vedete Molto comodo Sì Mi sa Aspettate Adesso Si vede appena Boh Non si vede molto Però Penso sia interattivo Comunque C'è una Una fila Di barbabietole Che si muove In pochissimo tempo Qui ecco Col giosco In pasta Come vedete Il dirt È stato fatto bene Molto meglio Dell'anno scorso Allora Un'altra volta Che fai vedere il car Vedete L'han fatto bene qua Sopra Non è che si sporca tanto Forse Potremmo sporcare Un po' di più sotto Però non è fatto male E qui Iniziamo a vedere Un attrezzo Della Grimme Allora Della Grimme Vabbè qui Il sito ufficiale Mi sa che No Mancano ancora Questi attrezzi Infatti Vedete Della Grimme Mancano ancora Gli attrezzi Per le barbabietole Non so se potete Scaricarvi anche Patate In pratica È un raccoglitore Di barbabietole Come vedete Eh Non è fatto male Neanche Il Il parcel Non so come Cavoli Non dovrebbe essere Il particolo In pratica Il cumuli Vedete Non è che tutto Ci sono buchi Forse un po' Un qua dietro C'è un po' Un buco Però Un po' meglio Dell'anno scorso Vedete Va indietro Lo scarica Vedete Scaricate qua dentro E' una specie Di nastri Trasportatori Assemblati Scarica Poi c'è il nastro E poi Che va su un altro nastro Quest'altro nastro Lo mando in alto Vedete Ecco Va lì Poi qui c'è Vedete Qua c'è l'attacco Questo qui è quello che Arma da come cosa Ah qua c'è Tra l'altro La carriola Non penso Abbia interattività Però c'è la carriola E ecco Guardate qua poi Non è tutto continuo C'è un po' Quando arriva in fondo Si divide Ecco Molto bella come cosa E nulla E' finito qua il video Vabbè Passate qui Tra l'altro Qui No Cavoli Non devi fermare Mamma mia ancora Si dai Falla ancora una volta Allora Lo stoppato Come vedete Qui ci sarebbe La Ci sono alcuni mezzi Che non si vedono Tipo lo No vabbè Questo Zator si Però Anche la La New Holland Non c'è questo modello Almeno per ora Non si è visto nulla Chiudiamo qui E andiamo qui Vabbè Sito ufficiale Non c'è Non è più uscito nulla Ecco Volevo farvi notare Che questo qui È stato un po' Modificato Il lavatore Dei mezzi Vabbè E qui Dovrebbe mancare Soltanto gli oschi In quello Cavoli si chiama Il Non Il draccar È quello che c'è qua sopra Il Trans Un po' No come cavoli si chiama Vabbè Avete capito E qua Cos'è che ci dice Errore del server Cavoli Lsinfos Cosa combini Vedete Non possiamo Eh non possiamo No dai dai Che va Vabbè Nel dubbio Lo riscrivo Lsinfos No no Ciao a tutti Toretti E benvenuti In questo 23esimo episodio Riguardo alle news Di farm simulator 2017 Come ho detto In questi giorni Penso che Almeno una volta al giorno Uscirà una news Perché Tanto per vedere Allora Ieri una Due giorni L'altro ieri anche Vabbè Questo qui Video qui è uscito Ascoltate Allora Domenica Sabato Ok Venerdì E giovedì Questo Quindi Praticamente ogni giorno Quasi Lo torniamo indietro Allora Oggi è uscito Il trailer C'è una specie Di Un tip Hunting Pratica Scarica Pratica Potete scaricare Dappertutto Quello che volete E Un video Non è tipo un trailer Neanche un game Sì Un po' un trailer Più che altro Allora Direi di farlo partire C'è l'audio No Non c'è l'audio C'è l'audio Però l'ho tolto Ok Qui vedete La nostra Allmer Vedete Potete scaricare Dappertutto E questa cosa qua Mi Mi Gaza Moltissimo Vedete Voi andate avanti Guardate il mucchione Guardate che roba Veramente Una cosa Assurda Molto realistica Ok La lascia di giorno e notte Poi arrivate con la ropa Quella C'è scusate Non la ropa La allmer Scusate veramente E arriva con la allmer Quella che le raccoglie Guardate In pratica Non so se è interattiva Questa funzione qua Ad abbassare Tirare verso di noi Però C'è In teoria L'hanno visto Aspettate De cavoli L'hanno visto Mi ricordo di averlo visto Da qualche parte Eh Mi si ricorda più adesso Forse sulla mappa Non mi ricordo più Però l'avevo visto Ecco Aspettate Nel video Questo video qua Cavoli In questo video qua Appunto si vedeva Sono sicuro Al 100% C'è nello shop Si vedeva la categoria Dei nastri trasportatori Con quello Appunto Eccoli che avevo visto Avete questo nastro Molto comune Però dovete avere Quest'altro nastro Adesso non so se qua È un trigger Però penso che sia Soltanto un capanno Poi con la Possibilità di scaricare Tutto dove volete Vi lascia scaricare qua dentro Adesso andiamo avanti Dovrebbe essere Boh De lacrime Allora Qui non sono riuscito A ben capire Allora Vabbè Qui avete questa Questa parte qui Tutto Da trasportare Quindi veramente Se volete Portare qui Tre cose Per scaricarle Potete anche scaricarle Direttamente Da quel che ho capito Allora Occhia Potete scaricare il grano All'interno di questi capanni E È una cosa che Mi piace un sacco I nastri però Io se caso Preferisco utilizzarli Per caricare le colture Non per scaricarle Poi Allora Qui scarica l'etame È molto bella La cosa Come vedete C'è ancora La copertura Per questi mezzi E qui Ho notato Adesso lo zoom Vediamo un po' Se c'è lo zoom Che È un po'